Due mozioni legate agli scontri di Pisa e Firenze, una di Italia Viva, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, l'altra di Lega e Fratelli d'Italia, al centro dei lavori del Consiglio regionale. L'Aula ha approvato la prima mozione con 22 voti favorevoli e 10 contrari e respinto la seconda. La mozione passata col voto dell'Aula è stata presentata da Stefano Scaramelli di Italia Viva, Vincenzo Ceccarelli del PD e Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. È un atto forte che condanna con fermezza quanto è successo a Pisa e a Firenze, la Toscana non è questo e quindi il diritto di manifestare, la libertà si esercita, non deve essere concessa e soprattutto non deve essere repressa con dei manganelli, un atto violento che è stato in primis condannato dal Presidente della Repubblica e oggi arriva l'atto ufficiale e formale del Consiglio regionale della Toscana che condanna quanto è successo, prende distanza e chiede chiarezza. La Toscana è un'altra cosa, la Toscana è una terra di tolleranza, di libertà, di diritti e come tali ragazzi della nostra regione hanno diritto e dovere di manifestare, di esprimere le proprie idee bene che il Consiglio regionale della Toscana abbia assunto questa posizione. Dispiace perché magari si poteva creare un atto unitario, invece abbiamo visto un centrodestra arroccarsi su una difesa impossibile. Credo che era doveroso prendere posizione da parte del Consiglio regionale dopo i fatti inquietanti che sono accaduti a Pisa, dove abbiamo assistito veramente un po' inorriditi, preoccupati e anche amareggiati nel vedere che dei ragazzi che manifestavano pacificamente, molti di loro minorenni, sono stati addirittura manganellati. È chiaro che noi vogliamo capire di chi è la responsabilità se c'è stato un eccesso di chi era in piazza o se ci sono invece delle indicazioni che sono state date. Questo lo facciamo anche a tutela di quei rappresentanti delle forze dell'ordine che invece ogni giorno fanno il loro dovere con rigore senza eccessi e vogliamo veramente sperare che questo atto sia un atto isolato che non si ripete laddove le manifestazioni sono pacifiche e laddove le manifestazioni sono una libera espressione del pensiero, soprattutto in questo caso da parte di giovanissimi. È stata evidente purtroppo la rottura di quel patto sociale di fiducia che c'era tra le persone, i cittadini e le forze dell'ordine. Quindi il chiedere chiarezza e più velocemente possibile sarà l'unica cosa che potrà aiutare a ricucire quel dialogo e quel patto di fiducia appunto che in questo momento a Pisa ma anche a Firenze, in tutta la Toscana direi a livello nazionale, sta rischiando di venire di mancare. L'unica cosa evidente è che ci sono stati dei ragazzi, dei minorenni che sono stati picchiati e le parole di Mattarella sono la sintesi migliore di quello che dovrebbe essere l'azione, di quello che impropriamente è stato appellato come Stato di diritto da degli europarlamentari e dei parlamentari che invece si sono lanciati in giudizia a soluzioni semplici. Io ritengo invece che proprio per garantire massimamente le forze dell'ordine a cui va tutta la nostra stima, il nostro rispetto per il lavoro che fanno ma per tutelare anche il diritto a manifestare la serenità dei nostri ragazzi e delle persone si debba immediatamente fare chiarezza. Dopo la bocciatura della seconda mozione il portavoce dell'opposizione Marco Landi ha fatto una nuova proposta, concordare una mozione unitaria che accoglie le parole del presidente Mattarella. La proposta è stata respinta dall'Aula. Continua questa volontà di strumentalizzare questi fatti da parte del Partito Democratico e della maggioranza in Consiglio regionale così come purtroppo vediamo tante notizie non vere indichiarazioni fatte dai nostri colleghi della maggioranza. Le proposte erano due. La prima di trovare un atto comune quindi una sintesi nei prossimi giorni e c'è stata respinta. La seconda alla fine è stata quella di fare un atto molto semplice dove insieme si metteva giù un atto che riprendeva la nota del Quirinale con le parole del presidente Mattarella e questo avrebbe dato anche un senso importante in questa regione dove sono avvenuti questi fatti. Purtroppo il PD ha respinto queste proposte. Vuole andare il voto forte di una maggioranza per mostrare muscoli ma soprattutto per continuare a strumentalizzare questi fatti e come si è sentito in aula a dare già delle sentenze e delle condanne quando in realtà ci sono delle indagini in corso e quindi credo che da un lato la procura, da un lato il ministero e quindi internamente le forze dell'ordine debbano procedere in maniera seria. Noi abbiamo fiducia nelle istituzioni. Il PD continua a strumentalizzare. Dopo i fatti di Pisa va detto che in questo paese ma in tutti i paesi civili chiunque ha diritto di manifestare il proprio pensiero finché questo non travalica ovviamente la legge e il rispetto del prossimo. Chi parla in vita sua ha organizzato decine di manifestazioni, ha partecipato a decine di manifestazioni e mi fa sorridere quando sento dire che in questo paese non esiste il dissenso. Questo paese il dissenso esiste, è garantito e fa sorridere che chi dice che in questo paese non esiste il dissenso sono gli stessi che non hanno sprecato mezza parola per condannare invece chi manifesta prendendo un fantoccio con le sembianze del Presidente del Consiglio impiccandolo a testa all'ingiù e dandogli fuoco. Quindi io mi auspicavo che oggi il Consiglio regionale dicesse questo, che tutti hanno delitto di manifestare, che tutti hanno il dovere di rispettare le regole e le leggi, anche chi manifesta, che se un poliziotto reagisce ad una provocazione in maniera sconsiderata e sproporzionata deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, cosa che sicuramente la polizia farà, che un manifestante che sputa in faccia a un poliziotto non è un manifestante pacifico e è lì per manifestare la propria idea. È stata una giornata importante, è una giornata che abbiamo deciso tutti insieme di partire dal ritordo delle vittime, dei feriti, di quella tragica vicenda che scuote la Toscana e il Paese, scuote le sensibilità di ciascuno di noi. Abbiamo scelto di istituire per la prima volta un coordinamento all'interno della conferenza dedicato ai temi del lavoro, della sicurezza del lavoro, perché non si può più morire andando al lavoro. Un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell'incidente sul lavoro nel cantiere di via Mariti a Firenze. Così si è aperta la seduta plenaria della conferenza delle regioni e delle province autonome, svoltasi a Palazzo del Pegaso. Un tema sentito che ha portato alla nomina del Presidente del Consiglio regionale toscano, Masseo, a coordinatore per lavoro e sicurezza della conferenza. Il lavoro è dignità e noi abbiamo deciso di non voltarci dall'altra parte. Mi è stato chiesto la responsabilità di coordinare questo lavoro. Lo farò insieme a tutti gli altri Presidenti, pensando che finché anche solo una persona morirà sul luogo di lavoro, ognuno di noi deve sentirsi parte di quella responsabilità. Durante l'Assemblea sono stati rinnovati organi e coordinatori. Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, succede a Roberto Ciambetti, quale coordinatore della conferenza. È stata una giornata intensa, auguri al nuovo e al nuovo eletto coordinatore, il Presidente Aurigemma della regione Lazio. Un augurio di buon lavoro e un grazie per quello che ha fatto al Presidente Ciambetti, Presidente del Veneto, ex coordinatore della conferenza. È stata anche una giornata in cui noi abbiamo voluto sottolineare alcune questioni che sono al centro dell'agenda politica. Ci confronteremo su tutti i cambiamenti istituzionali che il Governo propone. Lo faremo pensando ai ruoli del Consiglio regionale, provando a chiedere che si riallinino le finestre elettorali, perché per partecipare, se vogliamo, ci sia più democrazia dobbiamo cercare anche di accorpare e di tenere insieme. Insomma, sarà un lavoro pensando sempre ai cittadini e ponendoli al centro di tutto il nostro dibattito e sono felice che tutto questo sia avvenuto oggi qui a Firenze in Toscana. Sicuramente le assemblee legislative dei consigli regionali sono dei luoghi importanti, luogo dove si legifera, ma soprattutto dove ogni consigliere regionale rappresenta un pezzo del territorio della propria regione e quindi viene rappresentato tutto il territorio nazionale. È un luogo importante perché è un luogo di ascolto, è un luogo di confronto, è un luogo di discussione, ma soprattutto è un luogo di sintesi. Quella sintesi fondamentale per il bene comune, per l'interesse comune dei cittadini del proprio territorio. Oggi l'obiettivo di attualità, la qualità e la sicurezza sul lavoro è fondamentale per una nazione democratica, per un paese democratico. Proprio per dar voce e per dare risposte concrete abbiamo deciso proprio questa mattina di creare un coordinamento ad hoc per la qualità e la sicurezza sul lavoro. Anche se la competenza è di carattere nazionale, ci sono tanti temi da affrontare come quello di poter incominciare a mettere un bollino di qualità sulle aziende che lavorano sul proprio territorio, che corrispondano a determinati criteri, requisiti, ma soprattutto tengano conto di qualsiasi tipo di sistema atto a prevenire incidenti. Noi purtroppo parliamo della sicurezza sul lavoro sempre post, questo non fa onore, ci affidiamo sempre alla procura quando invece dovremmo affidarci a delle norme che siano in grado non di reprimere ma di prevenire incidenti come quelli accaduti qualche giorno fa qui a Firenze. Tre anni intensi, tre anni che hanno visto tutte le regioni collaborare per rafforzare il regionalismo italiano. L'abbiamo fatto in varie occasioni, anche in confronti con Camera e Senato, anche con interlocuzioni direttamente con il Presidente della Repubblica, quindi veramente un lavoro intenso. E poi ognuno dei colleghi per le proprie competenze e sensibilità per storia professionale o anche appunto istituzionale si è occupato di temi specifici, dall'anticorruzione all'antimafia, ai garanti dei diritti, all'Agicom, quindi molte cose di competenza dei consigli regionali e poi anche un coordinamento di attività legislative che ha visto veramente lavorare le assemblee legislative in maniera assolutamente corale, specialmente ripeto per rafforzare il regionalismo italiano, per dare la giusta dignità alle più alte istituzioni democratiche che ci sono in ogni singola regione. Quindi anni intensi, anni anche di rapporti umani che hanno gratificato questo impegno e un bagaglio appunto che mi porto a casa di assoluto livello. La Pisaniana racconta le dimore storiche toscane. La trasmissione coprodotta da 50 canali e dal circolo culturale Filippo Massei ha presentato il progetto di valorizzazione del patrimonio storico toscano che porta avanti insieme alla sezione toscana dell'Associazione Dimore Storica Italiana nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo del Pegaso. Sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo, Massimo Balsi, presidente del circolo culturale Filippo Massei, il presidente di Azi Toscana Tommaso Marzotto di Cautorta, la responsabile programmazione eventi dell'Azi Clotilde Corsini e Fabrizio Greco, coordinatore del gruppo imprese Circolo Massei. La Pisaniana svolge un ruolo di sensibilizzazione su questi temi e non solo molto importanti, il luogo di incontro, il luogo di ascolto, il luogo di approfondimento. Partendo da un punto, la Toscana è terra di arte, terra di cultura, terra di bellezza, la Toscana è terra di grandi città d'arte ma è anche un luogo incontaminato pieno di tante bellezze. Le dimore storiche svolgono questa funzione sempre di più in questi anni, è cresciuta la loro capacità di saper costruire attrattività molto di più che nel passato. Questo è possibile grazie a chi ha investito, le ha ristrutturate, le ha rese accessibili, le ha rese vicine a ciascuno di noi. È un regalo per mantenere viva la memoria di quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura, ma è anche un modo per saper costruire occasioni di turismo, di un turismo differente nel nostro territorio. Il nostro impegno come Circolo Culturale Mazzei è di realizzare tantissimi eventi in anni o nei più diversi settori della cultura, dell'economia, il racconto della nostra bellissima regione. In questo caso, quest'anno si viene a sancire un patto tra dimore storiche e Circolo Mazzei, nel promuovere la bellezza delle dimore storiche della nostra regione, queste infrastrutture turistiche disperse sui territori dove possono arrivare tanti turisti non solo dalle città d'arte in centro, ma anche nelle periferie, quindi movimentando economia, ricchezza e soprattutto l'importanza della manutenzione di questi beni. Ecco la presenza in Regione Toscana, l'organo legislativo complessivo tra Giunta, Consiglio, l'attività che anche c'è intorno all'attenzione di questo mondo, di cui il Presidente Gianni è stato assido presente delle nostre pisaniane e anche portando idee e contributi in merito, ma soprattutto anche l'organo legislativo, quindi la Presidenza del Consiglio della Regione, come organo che poi deve deliberare e appoggiare l'attenzione a questi patrimoni. Noi ormai da vari anni abbiamo questo rapporto privilegiato con la Pisaniana e le sue trasmissioni televisive perché in occasione della nostra apertura nazionale di primavera, quest'anno ricade la domenica 26 maggio prossimo, apriamo circa 120 dimore storiche in tutta la Toscana ed è una vera festa nazionale e una grande gioia di un pubblico molto vasto che per questa giornata vi ha l'occasione di aprire. La cosa particolare che ci piace è che è ricevuto dai proprietari, spiegano le gioie e i dolori di gestire una dimora storica, però questo è un grosso successo, è un grosso momento di occasione di scambio di esperienze. Iniziamo il 26 di maggio che ormai è una nostra data fissa, che è la giornata nazionale, momento clou dell'associazione ed è la prima di due appuntamenti, il secondo sarà il secondo sabato di ottobre con la giornata degli archivi. La Toscana fa sempre la parte del leone in questa manifestazione, quindi speriamo di fare altrettanto anche quest'anno. In questo momento sono onorato di essere il portavoce di una serie di imprenditori toscani che hanno affiancato il progetto del Circolo Mazzè e quindi questo affiancamento verso le dimore storiche per unire in gruppo e quindi in sinergia le professionalità specifiche che possono andare dalla diagnostica patologia degli edifici sino alle varie soluzioni che ci possono essere anche nel campo della riqualificazione energetica, dei giardini e del verde. Quindi tutto ciò che può abbracciare la tutela di questo patrimonio offrendo consulenza a 360 gradi.